Musica Approvate due mozioni sul salario minimo presentate da APD e Movimento 5 Stelle. Sia l'unanimità alla risoluzione sul trasporto sociale per soggetti con fragilità socio-economica. Il Fondo Reana Fallaci del Consiglio regionale della Toscana diventa pienamente accessibile grazie al volume Il Cuore in Toscana. Il voto sul salario minimo L'Aula di Palazzo del Pegos a fine lavori si è concentrata su un tema di grande attualità, quello del salario minimo, approvando due diverse mozioni con il voto favorevole del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, una presentata da Irene Galletti e l'altra dal PD, prima firmatare Elaria Bugetti. Come sottolineato dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Galletti, l'idea di fondo della mozione è quella di garantire la dignità dei lavoratori attraverso il riconoscimento di un salario minimo orario. Secondo Galletti è una questione urgente perché siamo di fronte a un fenomeno per cui sta scomparendo il salario medio e si accentua la forbice tra i salari alti e quelli bassi. Da qui la richiesta alla Regione di adoperarsi presso il Governo affinché va davanti l'iter della proposta di legge per riconoscere il salario minimo orario, istituendo anche una commissione apposita che periodicamente proponga l'aggiornamento dell'entità del salario minimo orario. Questa mozione risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà per tutti quei lavoratori poveri con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente il vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo come è stato identificato da IRPET ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore. Quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione del numero 36 che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. Ad illustrare la mozione del Partito Democratico la consigliere all'area Bugetti che ha manifestato l'intenzione di votare anche l'altro atto dopo la presentazione di una serie di emendamenti. È un tema di grande dignità e qualità del lavoro delle persone, ha detto ricordando il lavoro importante della regione sugli appalti pubblici, primo esempio forte di salario minimo. La nostra partiva dà la richiesta al governo affinché non venisse soppresso perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in Commissione parlamentare, Commissione lavoro chiedeva la soppressione dell'articolo 1, quindi di fatto quella sul salario minimo. E noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana ma anche degli enti collegati, quindi ESTA e i parchi regionali che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al governo facessero un passo in più e il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD ma con altre forze politiche e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro ma è previsto anche che venga innalzato, parametrato a quello che è il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi questo riguarda i precari, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro ma anche contratti pirata. Quindi c'è tutto un tema grande che noi riteniamo dignitoso ed è una delle nostre battaglie principali. Francesco Torselli, annunciando il voto contrario alla mozione del Movimento 5 Stelle e il non voto su quella del Partito Democratico, ha definito il salario minimo uno dei temi di assoluta attualità e ha ricordato l'apertura del governo su una proposta di legge avanzata da alcuni partiti di opposizione. Il tema del salario minimo è un tema importantissimo e io ringrazio veramente le opposizioni per aver fatto questo dibattito in aula. Era impensabile che la Regione Toscana non affrontasse il dibattito su uno dei temi principali dell'agenda politica nazionale. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione, ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il Governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre, non vedo perché, non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore. Ma che si fa? A dieci giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del Governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Il Partito Democratico l'ha fatta in termini per i quali ci siamo sentiti di astenerci unicamente perché non vogliamo bocciare in maniera aprioristica questa strada, potrebbe anche essere l'unica percorribile, a quel punto la sposeremo anche noi. Io oggi continuo a pensare che se in Italia ci fosse il salario minimo garantito, già legge oggi, alcuni grandi agglomerati economici, alcuni grandi multinazionali, alcuni grandi blocchi di potere economico che oggi sono costretti a ricorrere alla contrattazione collettiva nazionale, tra contrattazione collettiva nazionale e salario minimo, sceglierebbero il salario minimo per guadagnarci loro alla faccia dei lavoratori. Ma se poi uscirà fuori che il salario minimo è l'unica strada, va bene sposare quella. Potiamo contro la proposta dei 5 Stelle perché è un manifesto ideologico del Governo Conte e crediamo che il Governo Conte di danni ne abbia fatti talmente tanti che riproporli. Oggi ci sembra una follia. La risoluzione sul trasporto sociale Approvata dall'Aula all'unanimità la risoluzione in merito al servizio di trasporto dedicato ai soggetti con fragilità socio-economica che chiede di rivedere al termine del processo di sperimentazione i criteri relativi al trasporto di soggetti con fragilità socio-economica, rivolgendo particolare attenzione a quelli affetti da patologie oncologiche. La risoluzione è stata illustrata in Aulo da Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità, che ha ricordato di aver accolto nel testo anche le richieste arrivate dalle opposizioni e che il trasporto sociale deve essere finanziato con risorse aggiuntive anche per arrivare ad una presa in carico maggiore delle richieste dei malati oncologici. Il documento, a valle poi di un percorso importante partito dal Consiglio e poi articolato su una serie di audizioni, ha analizzato quello che è stato il tema del trasporto socio-economiche sostanzialmente. Sapete che la Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario che è garantito a tutti in tutte le parti della regione toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. La Giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire a dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di stretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che reghino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. Secondo Alessandro Acapecchi di Fratelli d'Italia il trasporto sociale per problemi oncologici è molto stringente e attuale perché era gratuito fino a ottobre 2022 poi è diventato a pagamento. Noi abbiamo chiesto con una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scelerata ovvero quella di introdurre dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita invece dei criteri molto stringenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemie o la radioterapia quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già approvate quindi abbiamo presentato questa mozione è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario in modo particolare anche le persone con disabilità perché nel frattempo gli uffici dopo la riforma della Giunta dell'ottobre scorso avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti salvo coloro che avevano un'ISEE inferiore a 9.000 euro il che evidentemente parlava da solo la Giunta ha avvarato una sperimentazione che nei primi mesi ci ha dato ragione cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri sulla qualità del servizio ma anche sui soldi che eventualmente le zone di stretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone Sul tema è intervenuto anche il consigliere Ulmi Direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti perché sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale questo lavoro è stato hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che un'animità sia la giusta conclusione È diverso da dire quello che abbiamo accettato e che è stato votato dalla soluzione del problema Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto Certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale Il cuore in Toscana Il fondo Riana Fallaci del Consiglio regionale della Toscana archivio ricchissimo tra i tre più importanti al mondo già disponibile al pubblico dal 2019 diventa da oggi pienamente accessibile grazie al volume Il cuore in Toscana il fondo Riana Fallaci inventario archivistico e catalogo bibliografico il libro a cura di Catea Ferri Elena Michelagno e Monica Valentini inventario archivistico di Margherita Cricchi Agnese Lorenzini è stato presentato nella biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo di Firenze L'opera è frutto del lavoro durato quasi quattro anni che archivi e biblioteca del Consiglio hanno portato avanti insieme per inventariare, catalogare, descrivere e riordinare quasi duemila documenti che costituiscono il fondo Il testo, composto da numerosi indici appendici e da una tavola sinottica si propone come una guida uno strumento fondamentale per rendere noto il contenuto del fondo e navigare all'interno di esso accompagnando il pubblico nella scoperta di dimensioni meno note della personalità della giornalista e scrittrice fiorentina Il fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana è una ricchezza per tutti noi e allora consentitemi subito di ringraziare il nipote che ha permesso di mettere a disposizione i suoi scritti anche quelli ancora non noti alle cittadine e ai cittadini della nostra regione le permettetemi di ringraziare le curatrici hanno fatto un lavoro enorme e io vorrei rilanciarlo questo lavoro vorrei provare a fare in modo che questi scritti potessero essere tutti digitalizzati per permettere ai cittadini del mondo di poter accedere a un archivio che è unico un archivio dal valore inestimabile un archivio in cui si raccontano pezzi di vita, di pensiero di Oriana Fallaci c'è un messaggio forte che passa l'importanza di essere donne e uomini liberi e il valore della libertà, il valore della memoria ha bisogno di essere coltivato e allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso aprendo le porte di questa biblioteca di questi spazi del nostro archivio in tutto il mondo oggi è una giornata bella, importante è un primo passo, un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente una giornata storica l'ha definita Edoardo Perazzi nipote erede universale di Oriana Fallaci e curatore del suo lascito sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in certo senso parte della sua vita perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava ma anche come ragionava e come era fatta quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente e poi finalmente è un modo di lavorare snello e a disposizione di tutti Con questa pubblicazione, affermato Monica Valentini, curatrice del volume responsabile dell'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana è possibile per chiunque studiosi ma anche curiosi, appassionati, amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare richiesta per consultare il materiale Siamo finalmente arrivati alla pubblicazione del volume anche se il lavoro di riordino e di catalogazione della biblioteca era già stato completato avevamo già reso accessibili questi materiali a chi ce l'aveva fatto richiesta però a questo punto con questa pubblicazione che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito, è possibile per chiunque, quindi non solo studiosi ma anche curiosi, appassionati amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale Trovate tutte le indicazioni sui nostri siti, ci sono due pagine dedicate una della biblioteca e una del Consiglio e c'è un indirizzo mail comune al quale fa riferimento per qualsiasi informazione, anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza